La parola che proponiamo è Ascetta. La quesia parola si impreva sempre a me Spock. È sostituita dalla parola italiana Rubinetto. Parola che al tempo in riera era stare a imparare per ci staccare qualche persona. L'ascetta è quella che impreva sempre a ogni giorno da un tisci l'acqua per murrare la faccia, le mani e in qualsiasi altra utilizzazione, a casa o al giardino. L'ascetta è quella che troviamo a scontenire l'olio, dell'acqua, delle botte del vino. Aquell'as també sono ascettas. Sabi che è un algares? La grafia X reproduege un sol prepalatal. Lo sol, rappresentato con la grafia Xi o Shea in italià, analgarizza un premio la IX, faixa, peixe, caixa, això. La grafia X reproduege un sol, rappresentato con la grafia X reproduege un sol, rappresentato con la grafia X reproduege un sol. La grafia X reproduege un sol, rappresentato con la grafia X reproduege un sol, rappresentato con la grafia X reproduege un sol. Grazie a tutti.